Ma buonasera, buonasera signore e signore, sì, ho controllato, è inutile mentirsi, sono tutti signori. Questo video è qui, su YouTube, perché devo festeggiare ovviamente i 7600 iscritti, perché ci ho messo solo 6 mesi, ho messo solo cazzo di 6 mesi per fare 7500 e 7600, sapete perché? Perché ho fatto un cazzo di video e quelli che ho fatto fanno cagare. Quindi per cui YouTube ha detto, moda, tira una in testa, basta, terminato, e questo mi ha reso un po' triste effettivamente, perché fare i video che faccio io non mi prende poi così tanto tempo e se avessi solo qualche idea in più, sono sicuro che potrei portare delle figate. Quindi mi son detto, a gennaio 2020 io riparto, eppure quasi fine gennaio non sono ripartito un cazzo, perché io con molta procrastinazione... a febbraio 2020, dopo che mi sarò liberato dell'ultima review, che peraltro sarà una cosa molto figa, ed è quella luce che venite a provvedire da tutti, venite a provvedire, ma siete un matto? In realtà è un faretto RGB, un Falcon F7, se non sbaglio, ed è una cazzo di figata. Quindi appena posso fare del review sarà molto sincera, ma in realtà sostanzialmente si recensisce da solo, comunque vabbè, vedrete. Il bello dei nuovi video è che saranno molto più scialli, li farò probabilmente con molta più continuazione e ci saranno dei nuovi format. Precisamente me li sono scritti qui, me li sono scritti qui, così possiamo discuterne assieme, anche se questo è un video e ti tocca ciucciarti con questo per dirti. Ovviamente continueranno le reaction di Aliexpress, o ricominceranno, perché è un po' che non le faccio. Il perché? Beh, sono uno spasso, io so navigare bene Aliexpress e so esattamente le parole chiave per trovare le cose più spassose, quindi vi consiglio di tenerla seguita perché verrà fuori di quella roba allucinante. La seconda cosa è una cosa che penso che in Italia non esista, come quasi forse Aliexpress, ma le reaction su Subito.it. Cioè voi avete mai provato a vendere dell'usato su Subito.it o roba del genere? No, perché ci sono i casi umani più grandi che l'Italia possa conoscere. Cioè sono tutti concentrati lì, quindi se io non ve li faccio vedere, mi viene proprio il male dentro. Dico, no io non posso tenermi questo spasso tutto per me, io devo farlo vedere. Quindi mi inventerò qualcosa per cercare di scrutare subito e trovare le peggio descrizioni, peggio prezzi e la peggio gente, perché poi sono solo un sintomo di quella roba lì. Inoltre ho messo via un budget. Dopo anni di lavoro, no, ovviamente no, semplicemente dopo anni di cinesate vendute, posso finalmente mettere dei soldi per riuscire a fare qualcosa. Non sto parlando di attrezzatura perché sono già piuttosto a posto, ho il computer, ho la webcam, ho il luccione, perché ho speso 200 euro. Cioè io ho speso 200 euro a sto canale. Non è vero, un cazzo me l'ha regalato. Però ho del budget messo via circa 250 euro che possiamo spendere diligentemente su questi siti. Ovviamente non posso farle sparate tipo spendo 200 euro su Wish, mi rovino la vita, prendo un sacco di ciarpana che poi butterò via o al peggio, terrò là sulla mensola. Però quello no, ragazzi, saranno dei soldi, dei budget veramente ben mirati e io utilizzerò Telegram, che secondo me è il social più adatto per questa cosa, per fare dei sondaggi, con delle mie proposte, perché sono migliore di YouTube ovviamente, su come potrei spendere questi soldi. Magari c'è anche qualcosa da scoprire, da debancare, da curiosità di cose che vendono lì, tipo gli iPhone a 50 euro, cosa c'è dentro, in che modo sono falsi, in che modo il cinese mi sta fregando, che ovviamente uno YouTuber che fa solo reaction normali non ti può portare. Mentre un furdissimo come me, perché se mi siete sul canale giusto, potrebbe darvi delle informazioni che effettivamente prima non sapevate, perché ovviamente cosa aprite YouTube a fare se quello che sapete dopo è uguale, identico a quello che sapete prima, cioè allora siete scemi, siete perdendo tempo. Continueranno gli unboxing cinesi? Perché ovviamente sì, queste cose verranno comprate, forse inglobate nel nostro stesso video, non lo so, vediamo se riesco a portarlo avanti con magari un formato un po' più, non so come dire, targettato, nel senso che compro 400 peluche, almeno mi arrivano solo peluche, unboxiamo i peluche, ma almeno che meno ci divertiamo, sono morbidi. E poi, a mia totale discrezione, inserirò in mezzo qualche video sui droni FPV, che è quello che più mi appassiona come hobby al momento, è abbastanza una figata. Sì, in America stanno cercando di seccarlo con le legnate delle leggi, però vedremo come evolve. Beh, tanto siccome in Italia arriviamo sempre dopo, magari arriva dopo anche la legge, e io posso volarlo ancora per un po', in realtà è totalmente illegale. È totalmente illegale, quindi non volate i droni FPV, io non posso incentivare l'uso dei droni FPV, perché allo stato attuale sono totalmente illegali. Quello che posso fare invece è dirvi che mi impegnerò per cercare di portare un video a settimana, e questo sarebbe già il quadruplo di quello che faccio finora. Una montata di video incredibile, roba che YouTube prende e dice, Ma questo canale, cioè io devo assolutamente portarlo su! Se uno reputa che io sia divertente, teoricamente rimane sul canale. Il problema è che non riesci a farti reputare divertente se YouTube ci mette sopra un telo, poi ti seppellisce nel catrame e ci sputa pure sopra. Quindi che posso dire, signori? Che ci vedremo presto, e ci vedremo con un sacco di nuovi format, che sono peraltro facili da realizzare per me, perché comunque il mio tempo è finito, insomma, quello che posso dedicare a una roba che non mi importa a nessun introito, quindi finché mi diverto sicuramente si può fare, oltre no. Detto questo, signori miei, io vi mollo. Eh sì, eh sì, vi mollo. Eh, lo so, non lo so, devo andare, devo andare, devo essere, vedremo!